Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi e con il tuo Spirito. All'inizio di questa celebrazione eucaristica, in comunione con quanti pregano con noi anche attraverso Padre Pio TV, chiediamo al Signore la conversione del cuore, fonte di riconciliazione di comunione con Dio e con i fratelli. Signore, Tu sei la via che riconduce al Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, Tu sei la verità che illumina i popoli, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, Tu sei la vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amén. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità. E perché possiamo ottenere ciò che prometti? Fa che amiamo ciò che comandi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amén. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che la sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo, infatti, che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo, quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Parola di Dio. E rendiamo grazie a Dio. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime, chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Nell'andare. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Perché ai piccoli hai rifilato i misteri del Regno. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo, diceva Gesù, a che cosa è simile il Regno di Dio e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami. E disse ancora, a che cosa posso paragonare il Regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, aleluia. Alleluia, assoluto. Il Regno di Dio è vicino, dice Gesù, iniziando proprio la sua predicazione. E spesso ciascuno di noi forse nella propria mente immagina questo regno di Dio come qualcosa analogo un po' ai regni della terra, che fonda tutta la sua realtà sulla forza, sulla potenza, sulla ricchezza, su quelle categorie umane verso le quali noi ci rivolgiamo perché crediamo che esse assicurino all'uomo tutta la pienezza della propria vita, la gratificazione di essa e tutta la potenza e il potere che un regno, secondo gli schemi umani, può avere. Ebbene Gesù oggi, proprio parlando ai suoi interlocutori, fa capire che il regno di Dio è tutt'altro che quello che noi immaginiamo secondo i nostri schemi. Anzi, quando si parla di regno di Dio non si parla in termini di quantità, ma di qualità. Non si parla in termini di potenza terrena, fondata magari sulle armi o su tutto ciò che l'uomo può inventarsi per gestire un potere, ma si basa addirittura su realtà, possiamo dire, piccole, infime, addirittura microscopiche. Il granello di senapa, il lievito. Gesù si rifà a degli elementi così piccoli da diventare misteriosi. Ecco perché, giustamente, il Vangelo ci ricorda l'espressione di Gesù, direndo l'odeo Padre, perché ai piccoli hai rivelato il mistero del regno di Dio. Il regno di Dio si confronta con elementi umili, semplici, e sono gli umili e i semplici che possono comprendere la portata enorme, grandiosa, straordinaria della presenza del regno di Dio. Una presenza che è innanzitutto nel nostro cuore, ma poi, a partire proprio dal nostro cuore, dalla nostra vita, si diffonde nella realtà del mondo, nella realtà di tutta l'umanità. Ed ecco allora questi due elementi che ci fanno capire che tutto ciò che parte da Dio, il suo amore e la sua presenza, comincia da qualche realtà o da qualcosa che non ha a che fare con gli nostri schemi, la nostra mentalità. Ma che esige quella fede che proprio, nelle cose piccole, umili e semplici, ci fa riconoscere qualcosa di grande. Ed ecco allora il granello di senape, che diventa il grande albero, che diventa il luogo dove tutto può essere accolto, o il lievito, anche il più, che è poca cosa nella pasta, ma che la fermenta. E quando allora Gesù annuncia il regno, lo annuncia proprio in questi termini. Qualcosa che è nel mondo, che comincia proprio con la sua presenza, e che gradualmente si apre alla fecondità di quello che è l'amore di Dio. In fondo, quando Gesù è venuto sulla terra, la sua presenza non ha sconvolto più di tanto. La sua persona ha impaurito fino a un certo punto il potere umano dell'epoca. Eppure, a partire proprio dalla sua morte, che pure è stata una sconfitta, che pure umanamente poteva sembrare la fine di un'avventura straordinaria, anche per i suoi discepoli, è cominciato qualcosa che ha trasformato il mondo, che lo ha cambiato e che ha dato proprio all'umanità un orientamento particolare, definitivo. Il regno di Dio, che comincia da quel granello di senape, possiamo dire che è raffigurato proprio dal chicco di grano che caduto in terra muore e porta frutto, come Gesù stesso aveva definito la sua missione e il mistero pasquale che avrebbe realizzato. Lo stesso del lievito. Il lievito ha questa capacità di essere poca cosa, ma di far fermentare tutta una pasta che si trasforma giustamente in qualcosa che può nutrire, che può dare vita, che può effettivamente riempire il corpo dell'uomo. Così spiritualmente il regno di Dio, soprattutto in ragione dei cristiani che ne devono diventare i testimoni autentici. È qualcosa che deve essere come il lievito e all'interno dell'umanità deve produrre questi stessi frutti che permettono al mondo di fermentare, evidentemente di lievitare, frutti di amore, di solidarietà e di pace. I santi questo hanno saputo cogliere nella rivelazione di Dio in Cristo, nella parola di Dio di cui essi si nutrivano ogni giorno e nella capacità di sapere effettivamente riconoscere come cuore semplice e umile il mistero del regno. E non a caso San Francesco, a partire dalla porziuncola, da quella piccola chiesa che lui aveva cominciato a restaurare, ha iniziato quella grande esperienza spirituale e ha dato inizio al grande movimento francescano per rinnovare la Chiesa e perché no, per rinnovare proprio il mondo. Ma lo stesso San Pio da Pietrelcino, dall'alto di questo monte impervio, magari lontano dai grandi centri, magari isolato in ragione di quella che è la stessa natura impervia di queste zone, ha saputo invece far crescere quel seme, quel granello di senape che è diventato annunzio di un regno che da una piccola cosa è diventato un grande albero e ha saputo accogliere tanti che venivano a lui per riconoscere attraverso di lui ancora una volta i misteri del regno. fratelli e sorelle, quando ci apprestiamo a servire il Signore, a diventare testimoni del suo Vangelo, ad essere operatori della sua carità, non dobbiamo pensare secondo schemi umani e magari fidandoci di quegli strumenti potenti che l'uomo costruisce. Ma forse dobbiamo guardare in profondità e dobbiamo quasi scindere l'atomo proprio per scoprire che la potenza di Dio e la salvezza di Dio provengono dall'umiltà, dalla semplicità, dal farsi poveri e piccoli dinanzi a Lui, ma per essere grandi nella missione che Lui ci ha affidato. Sia lodato Gesù Cristo. Da un piccolo inizio, un seme, un grande risultato, un albero robusto. Dal debole balbettio della nostra preghiera attendiamo da Dio l'abbondanza della sua protezione e dei suoi aiuti. Dio di misericordia, ascoltaci. Dio di misericordia, ascoltaci. Le sofferenze del tempo presente sono piccola cosa a confronto della beatitudine eterna. Ci concede il Signore di affrontarle con quella serena fortezza che nasce dalla fede e dalla speranza in un premio celeste. Dio di misericordia, ascoltaci. Quella dell'universo è la storia di un lunghissimo parto che avrà come risultato la glorificazione degli eletti. Chiediamo la grazia di sentirci coinvolti in un così grandioso piano di salvezza e di guardare il creato con un religioso rispetto. Dio di misericordia, ascoltaci. solo riconoscendo la sua piccolezza e non sottraendosi al suo destino di andare a morire nel solco, il seme produce una nuova vita, perché la Chiesa accetti la sua situazione minoritaria nel mondo, con fiducia in Dio che non delude. preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. La presenza del lievito nella massa della farina è silenziosa, ma non per questo inutile e sterile, perché la Chiesa svolga la sua missione nel rispetto delle linee e dei tempi di Dio che governa i cuori. preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. Per tutti i nostri defunti, perdonate le loro colpe, possano essere eternamente felici. Preghiamo. Dio di misericordia, ascoltaci. Signore Gesù, se noi siamo un piccolo seme, donaci di germogliare nel solco in cui ci hai posto. Se siamo lievito, facci grazia di prodigarci per quando ci circondano, perché crescano in tutti la conoscenza e l'amore per te, tu che viveregni nei secoli dei secoli. Amén. 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 Dio di misericordia, c'è il fruto della terra e della piramano, il prendio Grazie a tutti. E' il frutto della vita e del lavoro buono, il vino che ti ha freddo, Signore del Criato. E' il frutto della vita e del lavoro buono, il vino che ti ha freddo, Signore del Criato. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. E il Signore riceva dalle Tue mani questo sacrificio. Allora, gloria del Suo nome, per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa. Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo. Quest'offerta è espressione del nostro servizio sacerdotale. Salga fino a Te e renda gloria al Tuo nome, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E' cosa buona e giusta. E' veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a Te, lino di benedizione e di lode, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo perché noi tutti fossimo partecipi della Sua pienezza. Egli, che era Dio, annientò a se stesso e col sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Perciò fu innalzato sopra ogni creatura ed è causa di salvezza eterna per coloro che ascoltano la Sua parola. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della Tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni nella Tua gloria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, Santifica questi doni con l'effusione del Tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla Sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». «Mistero della fede». Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffussa su tutta la terra. Rendi la perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Padre Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla Tua clemenza. Mettili a godere la luce del Tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di avere parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madri di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che da ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la Tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete ai Tui Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. La pace sia con voi. La pace sia con voi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del muoio, donna a noi la pace. Beati gli invitati alla cena nel Signore. Ecco l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno a partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio, sarò salvato. Grazie. 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 Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a Te. Non permettere che abbia mai a separarmi da Te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in soffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Sei Tu, Signore, il pane, Tu cibo sei per noi, risorto vita nuova, Sveibiva in mezzo a noi. Nel ultimo sol ceno Gesù si donna e spai Prendete pane e vino La vita mia per voi Mangiate questo pane Chi crede in me vivrà Che beve in vino Nuovo con me risorgerà E Cristo in pane vero Vivi so qui fra noi Prendiamo un solo corpo E Dio sarà con noi 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 Preghiamo Preghiamo Signore, questo sacramento della nostra fede Compia in noi Compia in noi ciò che esprime E ci ottenga il possesso Delle realtà eterne Che ora celebriamo nel mistero Per Cristo nostro Signore Il Signore sia con voi E con il tuo spirito Vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo Nel nome del Signore Nel nome del Signore Andate in pace E rendiamo Grazie a Dio O Maria Santissima Dolce Madre di Gesù Stende il tuo manco sopra la terra Renderà Rendirsi ancora il cammino con Gio Ave, Ave Maria Ave, Ave Maria O Maria Purissima Sei l'età del Signore Salva i tuoi figli Qui dalle a cielo Soreggi il tua speranza nel cuore Ave Ave Maria Ave Maria Ave Maria Grazie a tutti.